Siamo con il protagonista Giovanni Chilleni, il Lerlane è partito con il piede giusto? Sì, sapevamo che c'era l'emozione della prima partita in casa, però ci tenavamo a fare bene, abbiamo lavorato durante la settimana, abbiamo preparato bene la partita e siamo soddisfatti di questo risultato. Il primo set senza storie, poi il secondo e il terzo c'è stato il ritorno degli avversari? Sì, diciamo che il primo set ci ha aiutato a dimostrare bene la partita, perché siamo partiti bene e li abbiamo messi in difficoltà, poi loro sapevamo che sarebbero rimessi negli altri set e così è stato, però complimenti a loro e complimenti al nostro. Possiamo dire che a Sprazzis è visto un buon allenatore? Sì, ci stanno rendendo i risultati degli allenamenti, del gioco, degli schemi di gioco che proviamo ogni giorno e continueremo a lavorare per farli farci vedere sempre meglio. Adesso già pensate alla prossima partita? Adesso sì, ci godiamo questa vittoria e poi dal lunedì cominciamo a pensare a Vico. Adesso già pensate alla prossima partita?